Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Punk, che mi chiede di parlare del film del 2022 di produzione italiana prodotto dai grandissimi Manetti Bros, diretto da Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti. Il film è Margini, produzione indipendente, film molto particolare che ho trovato veramente interessante. Insomma, si parla di un'opera prima, ed è un film particolare, un film sul Punk. Il Punk negli anni 2000 a Grosseta, siamo nel 2008, e si parla di questo gruppo Punk, praticamente messo insieme da tre amici di condizioni sociali completamente diverse. Abbiamo Michele, che è uno skin praticamente rosso, che è disoccupato, che cerca in tutti i modi con il suo gruppo Punk, appunto, l'organizzazione di un concerto di poter fare finalmente qualcosa nella vita. Poi abbiamo Jacopo, un giovane appassionato di Punk, ma che in realtà suona benissimo il violoncello ed è in procinto di partire per una tournée di musica classica. Poi abbiamo il più giovane, che praticamente non ha il padre e deve lavorare nell'Uomo della Madre, che ha una sala da ballo terrificante. Si chiama Edoardo, che praticamente, appunto, anche lui suona alla grande con questo gruppo, e si ritrova appunto nel 2008, in questa Grosseta, completamente desertifiata, dove non c'è niente, praticamente niente. Per questi ragazzi, se non suonare in qualche sagretta, con dei presentatori che non hanno idea nemmeno di cosa sia il Punk. e il film inizia subito bene, un macchino a mano, fotografia naturale, per un film che cerca un dramma realistico, che fa anche ridere, perché c'è poco da dire ridere con la vita, dramma risata e altro. E nella storia di questi tre ragazzi, praticamente, di estrazioni sociali diverse, più o meno, sempre comunque messi in condizione di essere schiacciati da un qualcosa che è più grosso di loro, ovvero la provincia, mini provincia italiana toscana, che conosco bene, dove non c'è un cazzo, e appunto la loro vita però si sposta, quando nel momento in cui gli dicono che dovranno fare di spalla questi defense a Bologna, dove loro sembra di avere il mondo, però questi defense a un certo punto cancellano il concerto e i nostri si trovano a dover organizzare loro, decidono in testa loro di organizzare questo concerto di defense lì, a Grosseto. E poi tutto quello che succederà fra i nostri del gruppo, le cose che succederanno con i genitori, i familiari, la famiglia appunto del nostro, anche una bambina, Michele, e tutte le volte appunto che lo chiamano nazista perché è skin, non capiscono che è skin, quindi non è nazi skin, ma è tutta altra cosa, basterebbe guardare di disingland e informarsi un po' con gruppi neri, tipo madness, scao oi del genere, che erano mezzi neri, erano tutt'altro che razzisti, era l'opposto, erano compagni, ma detto questo, il film funziona benissimo, proprio per le battute, alcune battute fantastiche, sono loro che sono splendidi nel loro essere così anarchici verso qualcosa che in realtà non esiste più, verso un movimento che loro dicono giustamente che non è mai morto perché l'idea è quella e ne sono convintissimo anch'io, ma è un movimento che purtroppo quel tipo di punk ha suonato tra l'altro dai ragazzi in maniera molto buona nel film, con la giusta grezzaggine, poi si citano i giusti gruppi, è un film che si nota che è fatto da chi ama davvero il punk, da chi suona il punk e soprattutto è fatto per farci capire anche attraverso questa allegoria del concerto, a dire a loro come la crescita delle persone possa avvenire anche tranne piccoli momenti, come anche l'amicizia possa finire in dieci secondi, come il tutto, un sogno, possa trasformarsi in qualcos'altro alla fine, che comunque lascia sempre una soddisfazione anche se non è monetaria. Quindi è un film secondo me di velli di mortone da vedere italiani, di quelli che consiglio alla grande, io mi dicevo il mio bel DVD, me lo so scoppiato, poi ve lo faccio vedere qui per simpatia perché è proprio ganso, ce l'ho preso di brutto, mi ci sono divertito tantissimo. I ragazzi che interpretano Edoardo, Jacopo e Michele sono bravissimi. Francesco Turbarti che poi è l'ideatore, il soggetto della sceneggiatura, insieme a Niccolò Faletti che viene accreditato solo lui alla regia, ma il film viene considerato un film di tutti e due. Francesco Turbarti è Michele appunto. Edoardo è un convincentissimo, è un umano Erel infatti, è molto bravo anche Jacopo, Matteo Crelatini ma è bravo anche nel ruolo di Tiziana Valentina Carnelutti, o un grande Nicola Riganese a fare Adriano, perché la parte poi del Night che loro vogliono suonarci è strepitoso quando gli fanno vedere la sala, che puoi prendere la sala solo dei vecchi o dei preti, e loro è tutto, ma i preti mai, quindi un film secondo me a tratti veramente fantastico, sicuramente un film che ha delle debolezze, è un po' naif, è un po' così, però a un certo punto questa sincerità di racconto viene fuori attraverso una regia che poteva essere sicuramente migliore, ma che così è proprio punk, è semplice, diritta e cerca di esprimere quello che andava espresso. I classici film secondo me vanno entrati per tirassù un certo tipo di cinema indipendente italiano che finalmente butta fuori della roba come questa che passa inosservato e che invece è di mortone ganzissima. Quello che deve arrivare, cioè la narrazione, il succo e la storia di questi giovani che devono per forza combattere con una società che li strizza, perché non inseriti dall'interno della stessa, è descritta veramente benissimo, quindi per me il link è qui sotto, donatevi sul Patreon, mi piace, scrivetevi al canale, fate tutto il cazzo da vi fare per far contento al full center, il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, e poi se davvero volete far del bene al cinema, comprate questo margine, perché è un film assolutamente da non perdere per chi ama il cinema indipendente italiano.